Geox for Valemur è un progetto che nasce per creare opportunità per tutti. È una collezione speciale, pensata apposta per includere nella sua fabbricazione persone molto speciali. Le pelli che fanno le scarpe, infatti, sono dipinte a mano da ragazzi con disabilità intellettiva. È un modo per creare colori unici e spettacolari, che non potrebbero essere creati in altro modo, e includere nel mondo del lavoro persone che altrimenti avrebbero più difficoltà. Il progetto Valemur unisce proprio già dal nome. Valemur è l'unione tra Vale e Glamour. Per noi Vale vuol dire il valore delle persone, le cose, dei progetti. E il Glamour è il mondo scintillante della moda. Noi ci occupiamo proprio di progetti di vita dei nostri ragazzi. Io ho spiegato loro che secondo me hanno una potenzialità, i ragazzini dao, incredibile su quello che è il tessile. Quindi questa loro spontaneità, questa loro semplicità, questo loro giocare col colore, ci fa gioco. E non è, ah che bello perché l'ha fatto un down, ah che bello a punte basse. I ragazzi hanno dipinto la pelle a rullo. La novità è stata quella di utilizzare dei pennelli a punte rotte, attraverso i quali i ragazzi hanno ottenuto questa texture a quadri. Quindi è una sorta di tartan che caratterizza ancora di più la calzatura e mantenendo comunque questo aspetto di pezzo unico. GEOX ha investito in Vale e Moore, nel senso che ha fatto lavorare i nostri ragazzi, ha dato la possibilità di diventare, di essere lavoratori, ha dato la possibilità di sviluppare alcune abilità, ha dato la possibilità di provare cosa significa avere dei colleghi, cosa significa mettersi d'accordo, cosa significa rispettare dei tempi di produzione. Ha dato il lavoro su cui lavorare, per noi è fondamentale. Il progetto GEOX for Vale e Moore è molto importante per noi di GEOX. Dopo aver creato quattro bellissime collezioni in Italia e dato nuove opportunità per tutti quelli che ne hanno fatto parte, abbiamo voluto portarlo anche in Spagna. E il nostro sogno è portarlo ancora oltre. Grazie a tutti.